onore e rispetto squadrino grazie squadrino vengo umilmente al vostro cospetto per chiedervi un favore sono a conoscenza della vostra tregua coi tipi roccia ma la nostra comunità ne ha avuto davvero abbastanza di loro rimbalzano dove vogliono e se ne fregano danneggiano tutto e non c'è nessuno che li controlla quindi vi chiedo se potete occuparvene voi squadrino dopotutto sappiamo entrambi che facciamo profitto dalle loro armi blast 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 o squadrino ha ascoltato la tua richiesta e ti chiede se c'è in bocchia d'ex gonde no no che non ce l'ho perchè e chi si chiede con spazio di credere essere a faricina domanda richiesta oh oh dai stiamo calmi stiamo calmi blast toys blast toys blast 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 toys blast 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 toys blast 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 o squadrino richi la nostra comunità si basa sopra l'onore il rispetto e all'omertà e non potemo permettere che un bastardo come a te s'abbiano menso la minchia nostra sapete cosa è vero ne ero a conoscenza cavolo se lo ero per favore perdonatemi squadrino lo squasceno si andesse mancato del rispetto non avevo nessuna intenzione di mancarvi di rispetto squadrino tenetelo femmo carosi ragazzi ragazzi ehi per favore calmatevi aspettate vi prego aspettate vi prego no vi prego scapparemo a marcarvi di rispetto a nessuno vi prego no vi prego no 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 Grazie per la visione Grazie per la visione